Buonasera, sono Marco Ruoso direttore commerciale Isi Sementi. La Isi Sementi è una società italiana fondata nel 1981. Siamo qui oggi in provincia di Ragusa per presentare un nostro open day, la nostra gamma di plam e la nostra gamma di colorati. Il nostro motto per questa riunione, per questo incontro è dove c'è plam c'è Isi e dare valore al sapore. Per questo noi presentiamo una gamma di plam che vedete qui esposta, dove abbiamo prodotti di colorazione rossa adatti per tutti i cicli di coltivazione per il territorio siciliano. In più abbiamo inserito nella gamma delle referenze arancione e gialle per dare ulteriori possibilità ai produttori di diversificare la propria offerta al mercato e al consumatore. Altro importante segmento della nostra ricerca che presentiamo oggi è legato ai colorati, quindi prodotti ad alto valore aggiunto, ad alto gusto di ogni colorazione che una gran parte dei consumatori oggi va cercando.